Meno di una scuola su dieci è stata costruita con criteri antisismici e solo nel 28,1% degli edifici scolastici è stata eseguita la verifica di vulnerabilità sismica. Monitoraggio quest'ultimo obbligatorio dal 2003 che si concentra su tutti gli elementi della struttura, dalle fondazioni fino alla copertura ed è finalizzato ad elaborare una previsione sulla tenuta in corso di terremoti. Un check-up indispensabile per elaborare piani di intervento e di consolidamento mirati ed efficaci, mentre tiene banco alla vicenda della scuola di Amatrice, rasa al suolo del terremoto del Reatino, nonostante fosse stata sottoposta a recenti e costosi interventi di rafforzamento, alla vigilia del nuovo anno scolastico che in Campania inizierà a metà settembre preoccupa lo stato di salute delle scuole campane, così come emerge dal sedicesimo rapporto ecosistema scuola di lega ambiente. Lo studio è parte di un dossier che riguarda tutte le regioni italiane e ovunque registra gravi criticità e lacune sotto il profilo dell'adozione di interventi capaci di mettere davvero le scuole che ospitano i nostri figli al riparo da crogli e cedimenti in caso di terremoti. La campagna purtroppo non è messa bene. I dati riguardano in particolare le province di Avellino, Napoli e Salerno perché, denuncia l'associazione ambientalista, quelle di Caserta e Benevento non hanno inviato alcuna cifra oppure hanno mandato notizie incomplete. L'indagine prende in esame 559 edifici scolastici in Campania. Circa il 60% di essi risulta costruito prima del 1974, l'anno in cui in Italia è entrata finalmente in vigore una vera e propria normativa antisismica nazionale. Il 28% è stato realizzato tra il 1975 e il 1990. Le scuole che hanno almeno un quarto di secolo e che quindi, almeno teoricamente, dovrebbero essere state edificate con maggiore attenzione al tema del rischio sismico, sono circa il 10% del totale. A giugno il decreto per le periferie. 500 milioni per farle belle e, secondo il pensiero di Renzo Piano, trasformarle in un'argine alla barbarie. Lunedì scorso la risposta del Comune di Napoli, un progetto per le vele di Scampia. Col decreto del Governo e col piano del Comune si aprono ora due partite decisive, una tutta politica e un'altra tutta di civiltà. Correnzi e De Magistris si spera questa volta dalla stessa parte. Il Comune vuole abbattere tre delle quattro vele ancora esistenti dove vivono 300 famiglie e vuole salvarne una, la B, quella che nelle intenzioni doveva essere Celeste, per riqualificarla e farne un museo, un centro di aggregazione sociale. Sarà un concorso poi internazionale a dire cosa e come. La gran parte dei residenti, 200 famiglie, hanno già una casa assegnata altrove. Gli altri dovranno invece aspettare l'evolversi del progetto. Per tutto questo il Comune chiede il massimo che, secondo il decreto, può chiedere. 18 milioni per sé e 40 per l'area metropolitana di suo, poi ci aggiunge altri 9 milioni. Ne mancano 53, ma intanto è chiaro che De Magistris ha deciso di giocarsi tutto su Scampia e questa potrebbe trasformarsi in una nuova sfida a Renzi. Manca poco all'8 settembre, quando il Tribunale sceglierà i superperiti che dovranno valutare l'esito della bonifica sui suoli dell'ex Italsider nell'ambito del progetto per disastro ambientale. Intanto, la spiaggia di Coroglio, che per l'estate doveva essere restituita ai cittadini, così aveva promesso il Premier, è tuttora off-limits. Ma si può ancora sperare che il piano di recupero dell'aria attorno all'ex Cittadella dell'Acciaio di Bagnoli parta quanto prima. Secondo i piani di Invitalia, per settembre dovrebbero sbloccarsi lavori per 2 milioni di euro circa, a partire proprio dalla spiaggia di Coroglio. Il 13 luglio si sono chiuse due gare per la manutenzione dell'arenile e la messa in sicurezza della colmata a mare. Gli atti della procedura pubblica sono stati inviati alla Prefettura di Napoli e all'autorità anticorruzione di Raffaele Cantone. Stanno inoltre per partire altre tre gare, una per la rimozione dell'amianto dell'aria ex Eternit, una per il ripristino della barriera idraulica, un'altra per avviare una serie di test sui terreni per sperimentare tecniche di bonifica innovative. In altre parole, nei prossimi mesi si alterneranno interventi di messa in sicurezza e altre di risalamento vero e proprio. Sui roghi tossici faremo una riunione in Prefettura Napoli il 14 settembre, subito dopo la visita di Matteo Renzi del 12 settembre. Lo ha detto il Presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, confermando la prossima visita del Premier in città. Il Presidente della Regione De Luca ha avuto nei giorni scorsi un colloquio con il Prefetto di Napoli, Gerarda Pantalone, nel quale è stato concordato di convocare una riunione operativa con le forze dell'ordine per affrontare l'emergenza. roghi anche in riferimento ai ripetuti episodi che si stanno verificando nei territori al colloquio della provincia di Napoli e quella di Caserta. Ho sollecitato la riunione, ha detto De Luca, per una valutazione di merito della situazione e per concretizzare la strategia e le iniziative da mettere in campo.